molti docenti stanno attendendo in queste ore l'ordinanza ministeriale per la mobilità e le date diciamo che per la presentazione della domanda stessa di mobilità sia domanda per il trasferimento territoriale sia la domanda per la mobilità professionale cioè i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo ebbene la situazione di emergenza del coronavirus che proprio ieri è stata definita dall'organizzazione mondiale della sanità una vera e propria pandemia ha creato naturalmente dei ritardi al miur per la presentazione di questa ordinanza di mobilità tra l'altro unitariamente i sindacati flc cgl cis le scuola will scuola gilda e snarls avevano fatto la richiesta proprio di procrastinare la ordinanza ministeriale le relative date di presentazione alla domanda di molto tempo cioè di portarle anche per il mese di aprile il ministero a prescindere dalla richiesta unità dei sindacati e sta ragionando in queste ore proprio per prendere una decisione sulla possibile procrastinazione del della domanda di mobilità noi vi terremo informati è probabile che questa ordinanza uscirà per i film per la fine del mese di marzo e le domande potranno essere presentate nel mese di aprile nella prima quindicina di aprile diciamo non è una certezza ma è una possibilità messa in campo in questa situazione di emergenza seguiteci nel nostro canale youtube seguiteci nel sito www.tecnica della scuola perché vi terremo informati sulla sulla questione dell'ordinanza ministeriale per la mobilità e sulle date precise di presentazione di queste domande arrivederci